Sembra proprio che Canon abbia deciso di fare sul serio con queste ottiche. Nel corso di questo video andiamo a parlare delle recenti innovazioni appena introdotte sul mercato, per cui le ottiche ibride, in particolare il 24, il 50 e il 70-200 mm. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia da tanti anni. Nel corso di queste ore credo che più o meno chiunque io conosca mi sta chiedendo che cosa so di queste nuove ottiche appena annunciate dalla casa. Beh, allora, cominciamo con un siparietto divertente, perché quando è stata rilasciata la notizia che sarebbero state annunciate delle ottiche, sapete che la casa gioca sempre un po' sull'hype, io avevo scritto e avevo tirato a indovinare. E vi faccio vedere questo siparietto perché è divertente. Io avevo tirato a indovinare e la mia ipotesi era un 24, un 50 e un 70-300. Ho sbagliato di poco perché avevamo un 24, un 50 e un 70-200. Avevo immaginato che sarebbero state ibride anche per la forma che avevano, visto che ho potuto provare il 35 mm. E ovviamente un 24 e un 50 di questa linea vanno a completare la serie. Quindi per me era ovvio, a questo giro per me era ovvio che le ottiche sarebbero state queste, perché veramente si sentiva la mancanza di ottiche come queste per quella fascia di prezzo. Sul 70-200 non sono così sicuro di che tipo di nicchia si voglia andare a coprire. Se qualcuno di voi ha un'idea me lo vada a scrivere nei commenti, io non sono convintissimo di quell'ottica, però chiaramente non le ho ancora provate. Ora, prima che io vi dica esattamente che cosa ne penso, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere altri video di aggiornamento come questo. E chi lo sa, magari prima o poi avremo anche occasione di testare qualcuna di queste ottiche. Ma parliamone un po' di queste ottiche. Io ho sempre sentito in tanti lamentarsi del fatto che i prezzi di queste nuove ottiche per la mirrorless fossero un po' costose. Effettivamente non mi nascondo dietro un dito, anch'io mi sono lamentato del fatto che costassero un po' tanto. Chiaramente la casa ti fa pagare tutta la ricerca e sviluppo che c'è stata dietro e le migliorie che sono state apportate su queste ottiche, perché comunque sono delle ottiche che dei miglioramenti ce li hanno rispetto al passato. In particolare, in questo caso, le cose in più che saltano subito all'occhio sono un bottone di controllo ulteriore sul barilotto dell'obiettivo, quindi un bottone che potrà essere personalizzato e potrà fare diverse cose, e una ghiera ulteriore che va direttamente a controllare il diaframma. Questa è una cosa ovviamente pensata per il videomaker. Io ho avuto modo di provare questa cosa sul 24-105mm f2.8 e sul 35mm ibrido. Sono due ottiche che sono uscite da poco e che io ho avuto modo di provare quando mi hanno invitato direttamente da Canon e me le hanno fatte provare, quindi ho potuto tenerle in mano e sperimentare come funzionano. E funzionano molto bene, sono due sistemi che mi sono piaciuti. Non ho in programma di acquistarne una nell'immediato futuro, ma non nascondo che mi piacerebbe. Mi piacerebbe anche se non è detto che le utilizzerei per video, perché sarebbero delle ottiche eccezionali anche per fare foto. Le trovo particolarmente interessanti anche perché si collocano a metà strada tra le ottiche che abbiamo già visto di serie L, quindi le chiameremo le inarrivabili. Abbiamo le inarrivabili che costano veramente tanto e magari sono da f1.2 e poi abbiamo questi obiettivi ibridi che sono da f1.4 e che si collocano a metà tra le inarrivabili e le ottiche da comuni mortali. E quindi sono uno step molto interessante, perché collocandosi a metà hanno un range di prezzo che, sì, può essere un po' fastidioso, perché comunque siamo sui 1.800, se ho capito bene. Quindi è comunque una cifra non proprio snella, è una cifra comunque difficile da mandare giù, perché costano tanto, è più di uno stipendio per la maggior parte degli italiani. Però non è una cifra inarrivabile, come certe ottiche che ho visto, che costano 3.500 euro. Cioè 1.800, facciamo un po' di sacrifici, ce la possiamo permettere prima o poi. Un altro aspetto per cui le reputo particolarmente interessanti è che comunque non sono ottiche scassone, non sono ottiche progettate per il mercato low-end o consumer, sono ottiche serielle progettate per un mercato professionale alto che in più hanno anche il vantaggio di avere la ghiera supplementare per l'iride. Quindi sono delle ottiche molto belle, sono delle ottiche, dal mio punto di vista, stra-performanti. Bisogna vedere le performance di messa a fuoco, ma sono convinto che saranno stellari. La nitidezza promette veramente delle faville, lo sfocato sarà chiaramente meraviglioso. Da quello che ho potuto capire, ci sono delle feature proprio pensate per il videomaker, quindi una messa a fuoco rapida e regolabile, con zero rumore e molto fluida, molto reattiva. Quindi tutto questo ovviamente è interessante sia per la parte foto sia per la parte video, perché se io la uso per fare video, avrò il beneficio nel videomaking, ma se io la uso per fare foto, avrò comunque quel beneficio in fase di autofocus. Quindi è comunque un'ottica interessante. L'apertura di f1.4 secondo me è perfetta per la stragrande maggioranza dei casi. Io non ho neanche un'ottica da f1.2. Io ho l'85 mm serie EF, quindi quello vecchio. L'ho acquistato f1.4, non ho preso l'f1.2. Quindi io non sono fanatico dell'f1.2. Quando c'è un 1.4 secondo me lavoriamo benissimo e non abbiamo bisogno di tanto in più. Se vogliamo proprio andare over the top, prendiamo l'1.2, ma non lo vedo così necessario. Adesso che ci sono queste alternative, secondo me queste alternative diventano le più appetibili. Per quanto riguarda le ottiche prime, per quanto riguarda il 70-200, bisogna vedere e mi riservo magari di riparlarvene in futuro, perché magari, chi lo sa, magari avrò anche modo di vedere qualche sample online, o magari anche addirittura di provarne qualcuna. Quindi ne riparleremo sicuramente. Per il momento quello che ci tenevo a dirvi, visto che me l'avete chiesto in milioni di milioni, non ne avevo, me l'avete chiesto in tre. Però quello che ci tenevo a dirvi è che sono abbastanza contento di questi upgrade, perché mi sembrano particolarmente interessanti per la fascia di prezzo che ricoprono e per le prestazioni che forniscono. Sono delle ottiche interessanti anche per APS-C, perché voi pensate, per esempio, a questo 50 mm messo su APS-C, diventa un 80 mm da paura. Voi pensate a questo 24 mm montato su APS-C, diventa un, non fatemi fare i conti, cos'è che diventa un 42 mm? Insomma, diventano due ottiche fenomenali anche per APS-C, quindi c'è tutto un ecosistema che si va ad aggiornare lì dietro. E con queste ottiche possiamo andare magari a fare più cose, spendendo meno di quello che potevamo fare in precedenza, perché prima, se volevamo una cosa del genere, dovevamo andare sull'F1.2. Quindi se lo chiedete a me, sono molto interessanti e se lo chiedete a me, se c'è una di queste ottiche che io assolutamente sarei interessato a comprare, è senza dubbio il 35 mm. Quel 35 mm io l'ho provato, me l'hanno fatto provare, me ne sono innamorato immediatamente. Ha una qualità d'immagine, una qualità dello sfocato, che è una roba fenomenale, senza uguali. Se potessi scegliere una sola di quelle ottiche, sarebbe sicuramente il 35 mm. Chissà che non esca qualcosa di intermedio più avanti, magari un 85, magari qualcosina di tilt and shift. Io sto ancora aspettando. Chi lo sa che arrivi fuori qualcosa di interessante. Però per il momento, queste sono le mie impressioni su queste ottiche. Quindi, ricapitolando alla veloce, il 24 secondo me sarà bellissimo e diventa il 24 di punta. Il 35 secondo me è l'ottica da avere in questo momento. Se vogliamo un'ottica fissa, in grado di fare un po' di tutto, quel 35 mm è chiaramente l'ottica da avere. Il 50 mm a questo punto diventa il 50 mm di riferimento secondo me prima ancora dell'F1.2 che pure ho già provato e recensito ed è bellissimo, però questo è più abbordabile e non è così qualitativamente inferiore. Per quanto riguarda il 70-200, lì ho ancora qualche dubbio riguardo a chi dovrebbe acquistare questo obiettivo, per chi è. Perché sì, mi verrebbe da pensare, chiaramente vista la progettazione, è per il videomaker che vuole una lunghezza focale di quel tipo. Questo sarebbe il mio primo impulso, ma potrebbe andare molto bene anche per i matrimoni. Potrebbe essere una manna dal cielo anche per i fotografi matrimonialisti e per i videomaker matrimonialisti. Questo è quello che ho potuto vedere fino adesso, però parliamone nei commenti come sempre, perché spesso e volentieri siete voi stessi che fornite le spiegazioni migliori, perché magari avete approfondito più di me. Io ho letto la notizia, l'ho seguita un po' con la mano sinistra, perché oggi stavo anche facendo altre cose, stavo lavorando, quindi queste sono le mie impressioni a caldo che cerco di far uscire a stretto giro, perché molti vedo che stanno già recensendo queste ottiche, purtroppo io ancora no, chissà se non avrò modo di farlo prima o poi nel futuro. E però io vi dico una cosa, io voglio dirvi una cosa, se io avrò modo di recensire o no queste ottiche dipende unicamente da voi. E voi con i vostri pollici avete la possibilità di farlo succedere, perché se vi iscrivete al mio canale mandate un segnale ai brand, fate vedere comunque che questa community sta crescendo e ha del seguito e chiaramente dove c'è del seguito vengono mandati i prodotti anche in anteprima per fare dei test, delle recensioni, in maniera tale che io possa mostrarvi sempre le cose nuove che stanno uscendo e che tanto ci appassionano. Per cui il bottone è qui sotto, io vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Grazie a tutti.